Ben arrivati amici di Zoom. Un sindaco calabrese per l'ennesima volta viene intimidito. Il suo grido d'aiuto lo lancia tramite Facebook e pubblica un post con delle immagini e scrive questa notte ennesimo incendio doloso ha distrutto il mio secondo fuoristrada. Il primo mi era stato bruciato a dicembre 2010. Mi chiedo, ha un senso fare il sindaco in questa dannata terra che amo alla folia? Ma fino a quando? E per fortuna che non sono in un paese di mafia, altrimenti avrebbero arso pure me? Noi sindaci siamo in prima linea per miseri 1000 euro al mese, a differenza dei nostri parlamentari. Sto valutando seriamente di buttare la spugna. Firmato sindaco Amedeo Colacino di Motta Santa Lucia. Lo andiamo ad incontrare, andiamo a vedere, a verificare se continuerà a rimanere lì sindaco a Motta Santa Lucia. Gli faremo qualche domanda. Restate qui, subito dopo la pubblicità. E allora amici di Zoom, un ennesimo atto intimidatorio nei confronti di un sindaco calabrese. Noi abbiamo pensato di intervistarlo, gentilmente ha accettato la nostra intervista. Parliamo di Amedeo Colacino che è il sindaco di Motta Santa Lucia. Sindaco, intanto non è la prima volta che subisce un atto intimidatore. Sì, purtroppo è già la seconda volta. La prima volta è successa nel dicembre del 2010. Si è ripetuto quest'anno proprio in occasione della festività della Santa Padrona Santa Lucia la notte del 13 dicembre. ho avuto incendiato proprio sotto casa a Motta Santa Lucia un'altra autovettura di mia proprietà. Vediamo le foto. Erano due le macchine, tra l'altro una era di sua proprietà e l'altra si è incendiata visto il logo che è successo poi. Sì, l'incendio si è poi esteso ad una seconda macchina che era lì parcheggiata. Non solo, ma vi sono stati anche dei danni a due abitazioni perché si trovano parcheggiate proprio al centro del paese. Intanto quello è il centro proprio di Motta Santa Lucia, un paesino di mi pare 600 abitanti. Adesso non vorrei sbagliare. Sì, siamo sui 900 abitanti. E' in carica da quattro anni? Io sono in carica da quattro anni, dal 2009. Quindi in quattro anni due attentati intimidatori, ogni volta bruciata la macchina, in un paese che comunque non ha malavita organizzata, nel senso un paesino piccolo. Assolutamente no. Il nostro non è un paese dove c'è una delinquenza organizzata, questo no. Certamente la mia amministrazione da subito abbiamo iniziato un percorso di legalità, di bonifica su quelle che dovrebbero essere le più semplici regole di democrazia, insomma da una verifica sugli abusi edilizi, da una verifica sull'occupazione, quindi abusive di strade, interruzione di strade comunali, occupazione abusive di terreni comunali, su allacci abusivi di acqua potabile, di rigua, su ancora mancati permessi a costruire. Insomma vi erano delle abitudini un po' antidemocratiche che abbiamo cercato da subito di abolire, di eliminare, quindi applicando in maniera pedissequa delle regole civili, anche per il rispetto dei cittadini onesti. Lo stesso è avvenuto anche sulle tasse, vi era circa un 40% della popolazione che non pagava i tributi comunali a discapito di chi invece con sacrificio versava il giusto denaro alle casse comunali, anche per avere in controcambio dei servizi adeguati da parte del Comune. Sicuramente questo nuovo modo di fare politica non è stato accettato dal delinquente di turno. Dal piccolo delinquente di turno, posso usare questo termine? Perché lì adesso bisogna andare a verificare e capire questa brutta bravata. Sì, certamente dal piccolo delinquente di turno, perché come dicevano, da noi per fortuna non vi è una criminalità organizzata. Ma su questo sono fiducioso che le forze dell'ordine stanno facendo il massimo, stanno adoperando, quindi le ringrazio pubblicamente, ringrazio Sua Eccellenza e il Prefetto per la vicinanza, nonché ringrazio anche 28 sindaci che ieri mi hanno dimostrato la propria salutarietà. Intanto vediamo le immagini, purtroppo sono amatoriali, però vi fanno vedere la presenza di tutti i sindaci, le persone fasciate che vedete lì nelle immagini e poi anche la fiaccolata, perché c'è stata veramente tanta gente. Sì, vi è stata anche una grossa partecipazione da parte di tutta la cittadinanza ammottese, che come dicevo la nostra è per fortuna una cittadinanza sana, tranne ad esclusione di qualche balordo, che mi auguro che venga assicurato presto alla giustizia. Vi è stata una partecipazione anche di diverse associazioni, non solo di Motta, ma di tutto il comprensorio Lamettino. Ma poi la cosa bella è stata la manifestazione di 28 sindaci sia della provincia di Catanzaro che della provincia di Cosenza. Purtroppo è questo un fenomeno che in Calabria colpisce l'80% degli amministratori locali. Io dicevo ieri che siamo dei volontari perché certamente... Quanto prende lei al mese come sindaco? Al mese come sindaco percepisco mille euro lordi, sul quale devo anche poi pagare le tasse. Tra l'altro quindi lei non deve completamente lasciare l'altra attività perché lei è avvocato, è giusto civilista o penalista? Io sono avvocato civilista e vivo insomma del mio lavoro. Lei è sicuro al 100% che non possa trattarsi di una questione che riguarda la sua attività professionale come avvocato. Assolutamente no, lo escludo anche perché io esercito la mia professione o il mio studio sulla messia terme per cui insomma quest'atto sicuramente dipende da questioni locali. Poi insomma a livello civilistico non ho tutto rapporto, buoni rapporti con tutti quindi lo escludo a priori, in maniera a priori. Quindi mille euro al mese lordi e la macchina era assicurata così? La prima volta non era assicurata la macchina, un fuoristrada nuovo preso da solo sei mesi e quindi non ho recuperato neanche un euro. Questa volta era tentato di cautelarsi, anche se poi alla fine certamente non si ha un rimborso totale. Lei all'inizio, proprio la mattina dopo aver subito l'intimidazione, ha lasciato questo messaggio su Facebook dicendo ma ne vale la pena rimanere sindaco in una cittadina piccolina a subire delle intimidazioni a mille euro al mese. Così in quel momento lei era molto arrabbiato quanto si è lei. Sì è stata la stessa notte mentre ero in attesa alla stazione dei carabinieri per formalizzare la denuncia. È stato un momento di sconforto perché come dicevo prima insomma alla fine si è dei volontari, quindi i sindaci sono dei volontari in tutta Italia e quindi sappiamo che non c'è riconoscenza perché la riconoscenza in politica forse non c'è mai. Però poi subire anche queste intimidazioni è grave ma ha passato il primo momento di sconforto anche alla luce di tutta questa solidarietà dei cittadini e degli altri colleghi sindaci nonché delle istituzioni provinciali e regionali e del prefetto e le forze dell'ordine ritengo doveroso continuare e dare il mio impegno quotidiano per un cambiamento della nostra amata Calabria. Quindi lei non lascia? Assolutamente no, non mi faccio intimidire da questi balordi perché non di altro si tratta. Senta sindaco, prima di lasciarla, le voglio chiedere qual è l'atto più forte che ha fatto come sindaco a Motte? Ritiene che in quel momento la legalità abbia avuto una forte pressione su un motto, una pressione giusta perché la legalità è sempre giusta? Ma come dicevo noi abbiamo fatto una serie di atti, abbiamo denunciato all'assenteismo, abbiamo denunciato l'interruzione dei pubblici servizi, abbiamo denunciato abusi di lisi che non si facevano forse dall'istituzione del comune, abbiamo fatto pagare i tributi a persone che non li pagavano da 8-9 anni, abbiamo portato alla luce anche persone che avevano degli allacci abusivi, abbiamo portato alla luce e denunciato persone che avevano interrotto strade comunali, quindi si è portata alla legalità, non è quello che doveva essere l'ordinario in ogni comune purtroppo da noi, come così in altre realtà calabresi, diventa lo straordinario. Noi abbiamo fatto, non siamo degli eroi, abbiamo fatto semplicemente il proprio dovere con onestà quello che dovrebbe fare ogni buon amministratore. Allora, avete sentito, nonostante l'ennesima intimidazione, il sindaco di Motta Santa Lucia non lascia, vuole lanciare un messaggio non tanto a chi l'ha intimidito, perché lì il messaggio lo lanceranno chiaro le forze di polizia e i carabinieri sperando quando riusciranno a scovarlo, però ai suoi concittadini vuole dire qualcosa? Sì, io l'ho già detto ieri in questo Consiglio Comunale Aperto, però lo ripeto anche attraverso la vostra televisione, di collaborare con le forze dell'ordine, anche avendo dei semplici sospetti, vedendo dei semplici movimenti strani, perché quello che è accaduto a me oggi non è un attacco solo personale, ma un attacco all'istituzione, un attacco alla legalità. E poi non voglio che si ripeta il fenomeno che è accaduto nel 2010, perché oltre all'incendio doloso della mia autovettura, ci sono stati anche altri sette incendi dolosi nel 2010 a Motta. Quindi dobbiamo evitare che si ripetano questi atti vandalici e dobbiamo fare in modo che Motta venga conosciuta per quello che realmente è, una cittadina sana, onesta, una cittadina dove si può trascorrere, quindi anche da parti di persone che provengono da altre parti d'Italia, una settimana di tranquillità e di serenità all'interno del verde, delle bellezze naturali che abbiamo alle pendici del Monte Reventino e vicino poi al bellissimo mare Tirreno.